Si è tenuta a Piombino Eurathlon 2015, un evento organizzato dal Centro Nato per la ricerca marittima e la sperimentazione. Alla centrale Enel della Torre del Sale per nove giorni, oltre 40 robot di 17, tra università e aziende provenienti da 12 paesi, si sono sfidati tra loro. Il servizio è di Matteo Parlato. L'obiettivo di Eurathlon 2015 è proporre a team multidominio di robot, cioè terra, area, mare, uno scenario ispirato a Fukushima 2011. Essenzialmente l'idea è di sensibilizzare la comunità scientifica sui problemi di coordinazione e cooperazione fra i robot. Nell'incidente di Fukushima ci siamo accorti che i robot per le investigazioni nell'edificio hanno trovato molte difficoltà a superare le scale o anche i detriti del crollo. Quello che vediamo qui è utile per superare questi problemi. Il nostro prossimo passo sarà far entrare i robot nel reattore, ma prima dobbiamo trovare i modi di proteggerli dalle radiazioni che possono mettere fuori uso le componenti elettroniche. Noi vediamo dell'azione, ma per ogni minuto di azione quanta programmazione c'è? Difficile da dirsi, però sicuramente molta. Ci bisogna pensare che dietro il lavoro di questi robot ci siano mesi, addirittura anni, per sviluppare le macchine e per rendere robuste ed affidabili. Con l'occasione è stato possibile vedere in azione il coreano DRC Ubo, vincitore dell'ultima DARPA Robotic Challenge, il campionato mondiale dei robot. Per realizzare il robot ci abbiamo messo un anno, ma prima, nei nostri laboratori, lo abbiamo studiato per 15 anni. Ma anche i campioni ogni tanto, inciampano.